Basta ecco follie, sì, ai falò. Il consigliere regionale Giacomo Zamperini si schiera a favore della tradizione che si accende a fine gennaio, contro le polemiche sollevate nei confronti dei sindaci che non vietano i falò rituali. L'ecco è la città con l'area più pulita della Lombardia, ricorda, non sarà del fuoco in una festa di paese a danneggiarla. In effetti i dati ARPA sono molto rassicuranti. Il 2023 è stato l'anno migliore dall'inizio della misurazione di polveri sottili, PM10, e polveri fini, PM2,5, nell'area. Il livello di PM10 rientra nel range dei valori medi e ha superato la soglia massima solo 6 volte su 365. Il livello di PM2,5 per la prima volta non ha oltrepassato il limite massimo consentito. Anche la concentrazione di biossido e di azoto è inferiore rispetto all'anno precedente. In questi giorni esplosa la polemica sui sindaci che non dovrebbero autorizzare i tipici falò rituali di fine gennaio perché contro la legge riprende Zamperini. Ma numeri alla mano, i dati sono positivi e il miglioramento è assurdo quindi che ci sia ancora confusione sulla liceità delle manifestazioni popolari con falò rituali come quello per la festa della Giubiana. C'è una disciplina chiara e merito, spiega il consigliere di Fratelli d'Italia. Il divieto riguarda il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo solo per i comuni, poste a un'altitudine inferiore a 300 metri. Basta con l'ecofollie della sinistra fintamente ambientalista, riprende Zamperini. Dovremmo ricominciare ad occuparci delle persone che non arrivano alla fine del mese anziché seminare inutilmente panico sulla presunta fine del mondo. Su questo tema conclude e chiederò un intervento chiarificatore a Regione Lombardia.